Sono stata l'assistente di Mattia per un giorno. Abbiamo messo a dura prova tre magici accessori e sono rimasta senza parole. Non sapevo si potesse controllare la messa a fuoco manuale con un joystick senza fini. Vedere poi le riprese del drone su un monitor wireless in tempo reale è stato fichissimo. Nel video che trovo in bio racconto di tre prodotti che facilitano le operazioni per i videomaker. Questa è solo una breve anteprima. Uno dei miei preferiti è il Simo che si chiama quasi come me. Vero! Permette di utilizzare l'iPhone come monitor intelligente di supporto alla camera. E il tuo accessorio preferito qual è? Guarda il video e faccelo sapere nei commenti.